weee non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ahimè la gara di pesca purtroppo è finita ieri pomeriggio e pertanto così non siamo riusciti a prendere il primato europeo per numero di pesci pescati chiudiamo la classifica 103 unità pescate il primo purtroppo ne ha fatte 112 e quindi ragazzi diciamo addio all'ottenere il trofeo qua in italia ma nel video di oggi parleremo comunque di un sacco di novità interessantissime e di un glitch veramente pazzesco portare 6 oggetti nell'inventario una cosa che sembra incredibile ma che in realtà è fattibile e vi farò vedere anche un video però parleremo anche dei segreti della skin segreta sì perché ci sono due o tre dettagli che forse non sapete voglio dirveli e voglio anticiparvi con quello che ci aspetterà questa settimana nelle sfide quindi tanta tanta roba e poi ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque voglio ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a farmi compagnia in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro supporto e grazie di cuore a tutti quelli che mi supportano con il codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video ma prima la domandina come ogni buon mio video ci deve stare voglio ringraziarvi anche per tutti i commenti che mi lasciate sempre qua sotto nei video domanda di oggi molto nostalgica ma molto interessante se potessi quale location rivolresti dal primo capitolo a questo capitolo io ci ho pensato un po ragazzi e chiamatemi nostalgico ma io rivolrei la vecchia pinnacoli mi manca non ci atterravo quasi mai però era un istituzione un simbolo che da quando l'han cambiata la prima volta non lo so ha perso ha perso qualcosina il gioco in sé ditemi qual è invece quella che vorreste voi qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare del primo argomento ragazzi in nuova serie nuova collaborazione da parte di fortnite con new era no new era europe nev era europe per chi volesse capirlo come scrivere la v è una w non è una v normale non so che simbolo fosse questo una serie di cappelli che se non dico una cavolata potrete trovare anche da footlooker sono veramente molto interessanti molto carini vanno a riprendere tre personaggi abbastanza importanti per la storyline di tutto il nostro fortnite la skin alla deriva come state vedendo in questo cappello lo school trooper è questo questo il mio preferito mi piacciono un sacco nero con lo school trooper è molto molto bello non ho l'immagine in primo piano ma come vedete quello rosa un po più femminile va a riprendere ovviamente il caddo il team leader una novità per chi volesse avere un abbigliamento di fortnite possono ovviamente essere acquistati altrimenti anche online appunto sul sito sulla pagina instagram che vi ho elencato poco fa ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi è quella alle mie spalle alcuni la conoscono alcuni non hanno vedo il cavolo ex tutor questa ragazzi è la schermata di caricamento che arriverà questa settimana con le sfide del giovedì settimana molto importante perché arriviamo alla fine delle sfide alter ego tra l'altro l'alter ego quindi la versione buona la versione cattiva di determinate skin dovrebbero essere la storyline di questa season che in realtà non è ancora ufficialmente detta né da parte dello staff di epic games e ne capita dai leakers abbiamo due o tre misteri nella mappa ma per il momento sono sempre misteri perché vi faccio vedere la schermata di caricamento perché questa settimana innanzitutto otterremo la skin sorana skin segreta l'hanno già fatta vedere ufficialmente nella fine delle sfide bellissima leggendaria bellissima carina leggendaria tre stili io l'avrei messo nel post battaglia ma con la schermata di caricamento troverete anche delle coordinate per recuperare in mappa il piccone di sorana lo zaino e poi l'expid drop che sinceramente non non ho ben capito in italiano cosa vorrebbe dire quindi se voi andate nel punto esatto dove si intersecano le coordinate g7 g8 h7 e h8 troverete il backpack se invece andate nel punto esatto delle coordinate g1 g2 h1 h2 troverete il piccone e invece dei speed drop quindi non ho capito se qualcuno sa che cos'è l'expid drop perché veramente non ho ben chiaro l'expid drop dicono verrà invece trovato vicino al monumento di kevin ora io credo che sia quello a foschi fumaioli può essere non lo so perché l'ho visto una volta sola penso sia quello ovviamente troverete il video dedicato al momento giusto per recuperare tutto il tutto l'outfit di sorana e quindi completarla e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi va che bella foto alle mie spalle un bel loot probabilmente lasciato da un avversario appena killato ed è l'argomento appunto più sugoso del video che vi avevo appunto anticipato all'inizio di questo video cioè la possibilità di trovare di tenere sei oggetti nell'inventario è fattibile utilizzando un glitch e voglio commentare e farvi vedere il video del del glitch appunto come vedete siamo vicino ad un molo qualsiasi molo ci fa vedere il nostro amico che ci sono c'è del loot per terra e c'è una barca vicino al personaggio cosa bisogna fare intanto vediamo subito che ha un loot normalissimo quindi cinque oggetti negli slot lui sale subito nel posto di guida della barca poi scende o meglio si mette nella posizione dietro al passato al guidatore cambia slot cambia slot e adesso dice pick up an item then switch to driver seat quindi quando sei in quella location prendi un oggetto e subito cambia nel posto del guidatore quindi lui lo prende e cambia subito ok facilissimo va indietro con la barca l'oggetto che ha preso è andato a sostituire il suo fucile a pompa ma la figata infatti ve lo fa vedere ma la figata è che lui sbro che prende il fucile a pompa nonostante abbia il suo inventario completo e ci fa vedere che il fucile a pompa non è mostrato solo che adesso quando lui va a droppare ha droppato il famas blu ed è stato sostituito dal fucile a pompa quindi ha portato sei oggetti questa cosa ragazzi è pazzesca se ci pensate perché lui ce lo fa vedere molto semplicemente con un fucile a pompa ma pensate orio mi viene in mente funziona anche con un bazooka bende per dire cioè voglio dire che io posso portare un bazooka bende che consuma due e invece uno o comunque puoi portare dello shield in più medikit bende pesci ragazzi provatelo sono dei glitch che ovviamente dai chi cavolo vi sgama che c'è questo glitch quindi un salto provate a farcelo e perché no magari riuscirete anche a migliorarlo in sé insomma ragazzi anche per oggi le news sono finite io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo in live alle 8 ciao su twitch ciao 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 ciao